Allora D'Aversa oggi con questa vittoria vi siete un po' ripresi quei punti persi nelle ultime partite immeritatamente? Sì, è chiaro che spesso e volentieri ci facciamo influenzare da un risultato, nei giudizi o quant'altro, però è vero che abbiamo fatto un periodo dove i risultati sono venuti meno, ma credo che sotto l'aspetto della prestazione e dell'impegno ai ragazzi poco gli potevano rimproverare e devo dire che stasera ci siamo ripresi una parte di quei punti che abbiamo lasciato per strada, perché se mi vengono in mente le partite con l'Inter, Verona, Roma, Milan, ancora del ramarico c'è e quindi mi auguro che nelle prossime partite andiamo a recuperare quei punti che abbiamo perso in questo periodo. Salvezza raggiunta, però a un certo punto si parlava di Europa anche dopo la ripresa, quando avete fatto quella strepitosa partita a Genova. Noi siamo partiti con un pareggio a Torino, una vittoria strameritata a Genova, dopo di che abbiamo fatto una partita importante contro l'Inter dove vincevamo fino all'85esimo e non sto qui a parlare di quello che è successo, perché noi dobbiamo ragionare solo su dove possiamo migliorare, su tutte le situazioni dove noi possiamo migliorare e dobbiamo lavorare. Però c'è stata delle circostanze che hanno influito molto alcuni risultati e in un momento così importante della stagione, mentalmente, nel momento in cui magari si fanno delle prestazioni importanti e ci sono situazioni spavorevoli, è chiaro che a livello mentale qualcosina si va a pagare. Mi viene in mente la partita con l'Inter, mi viene in mente a Verona, mi viene in mente la partita con la Fiorentina, mi viene in mente la partita con la Roma dove potevamo pareggiare. E' chiaro che poi questo non è successo, però in questo periodo noi alibi non ci siamo mai creati né di infortuni, né di assenze, né di squalifica, né di episodi favorevoli o sfavorevoli. Abbiamo solo pensato a fare autocritica, a lavorare e a cercare di portare dei risultati importanti. Credo che alla fine questi ragazzi, sì è vero che la matematica salvezza l'abbiamo portata a casa oggi, ma credo che sotto quel punto di vista non è stata mai messa in discussione. Futuro di D'Aversa e della Parma, si può puntare all'Europa piuttosto che a un campionato tranquillo? Io penso che a volte ci andiamo a creare delle problematiche da soli. Ci dimentichiamo da dove siamo partiti. Quattro anni fa io sono arrivato in Lega Pro, non vent'anni fa, quattro anni fa. E la proprietà ancora prima di me è partita da un campionato dei dilettanti. Bisogna ragionare per step. Gli obiettivi non li pone l'allenatore, ma li pone una proprietà, una società. Nel momento in cui si è iniziato a parlare di Europa League, ho detto pubblicamente che non eravamo ancora strutturati per puntare all'Europa. Questo non significa che poi noi non ci alleniamo, non andiamo in campo per cercare di fare il meglio possibile. L'abbiamo dimostrato con l'Inter e con il Verona. Detto questo, poi non bisogna andare a macchiare tutto quello che si è fatto di buono. Perché cambiare l'obiettivo durante la stagione, sì, si può sognare, ci mancherebbe altro. I tifosi devono sognare che la propria squadra parte con l'obiettivo della salvezza e poi magari può ambire a qualcos'altro. Quindi vuol dire che sta dando merito a questi ragazzi, al lavoro di questi ragazzi. Però dopo non si deve ritorcere contro, perché le situazioni sono diverse. Sfido qualunque squadra di Serie A a togliergli i due centravanti di ruolo per gran parte del campionato. Però poi nelle valutazioni e quant'altro ci dimentichiamo. Abbiamo spesso la memoria corta, ma non è una forma di polemica. E sto solo rispondendo che gli obiettivi non li pone l'allenatore, li pone la società. Detto questo, se si vuole ambire a quello, bisogna essere strutturati per cercare di ambire a quello. Ma credo che l'obiettivo è sempre quello di far meglio. Poi a fine anno il mio futuro è il Brescia, la prossima partita. Perché è vero che siamo a 43 punti, ma vogliamo arrivare più in alto possibile. Per me è tutto. Buonasera. L'ultima vittoria, praticamente un mese fa, contro il Genoa. È stato nel frattempo un mese difficile in campo e non solo. Che mese è stato per il Parma? Sì, siamo l'unica squadra che sta in quarantena. Quindi puoi immaginare che nel momento in cui magari si fanno delle ottime prestazioni non si riesce a portare a casa un risultato. Alleggerire l'aspetto mentale non è semplice. È anche vero che lì dove numericamente la rosa è corta per le varie situazioni di infortuni, giocare ogni tre giorni non è semplice. Il fatto di non poter magari ruotare in alcuni giocatori, dargli anche del giusto riposo per far sì che magari il livello di attenzione, il livello di prestazione non venisse, non viene a scemare. E questo non è stato possibile. Però, ripeto, non fa parte del nostro modo di ragionare di crearsi nessun tipo di alibi. Noi se ragioniamo sul fatto che magari potevamo fare un qualcosa in più, lo addossiamo alle responsabilità, ci addossiamo a noi stessi perché siamo ambiziosi, sappiamo come lavoriamo dal primo giorno del ritiro, quindi deve essere per noi un percorso di crescita. Anche per me, io un periodo così lungo, giocando ogni tre giorni, come dice giustamente Gattuso, non è calcio, è una situazione totalmente diversa. Aggiungiamoci che sono quasi due settimane che noi siamo rinchiusi e che magari farebbe piacere anche a noi vedere le nostre mogli, i nostri figli. È anche un momento di svago per staccare, soprattutto quando le cose non vanno benissimo. Tutto questo non è stato possibile, però credo che stasera i ragazzi siano scesi in campo e hanno buttato ogni singola energia per cercare di ottenere questo obiettivo, matematicamente, ripeto, aritmaticamente, ma ripeto, sotto l'aspetto delle situazioni di dubbio, non ce ne sono mai state. Il tallone d'Achille, nelle ultime settimane, erano stati i secondi tempi. Il Parma si faceva rimontare nel secondo tempo e poi perdeva punti o perdeva direttamente... Ne abbiamo persi dieci, sono tanti. Sarà per questo che questa sera lei ha cambiato, ha messo quelli che magari erano i titolari nel secondo tempo? Ma tattica? Invertirla rotta? No, i titolari di stasera sono quelli che sono partiti titolari, perché io vedo i giocatori tutti i giorni e se ho deciso di far partire Caramò, Caprari e Sirigardi, perché in questo momento sono più prestativi dall'inizio rispetto a Gervinio e Kuluseschi, dove Kuluseschi in sera è il giocatore che ha giocato di più continuamente, come minutaggio, quindi la prestazione, se nei giudizi voi stessi giustamente contro la Sampadori, avete detto che è calato, non fisicamente, ma è anche normale, lui ha una media di 12 km a partita, nell'ultima ne ha fatti 10 e i 2 km stanno a significare che magari il ragazzo, pur essendo molto giovane, magari un po' di stanchezza la poteva avere. Quindi si ragiona sul fatto di chi è più prestativo dall'inizio, si ragiona sul fatto che oltre a giocare con Napoli si andava a giocare a Brescia, si ragiona un po' su tutto. Poi purtroppo il mio ruolo è un ruolo un po' particolare, se si vince le scelte e i cambi sono azzeccati, se si perde le scelte e i cambi sono errati. Contro la Samp, nel momento in cui stavamo facendo due cambi, è successo l'episodio di Riccardo Gagliolo che mi ha detto di aspettare il campo, altrimenti ci sarebbe stato un cambiamento tattico anche in quella circostanza. Però purtroppo abbiamo commesso degli errori e questi però ci devono servire di lezione. Stasera, prima di scendere in campo, gli ho detto che finché uno non si buttava per terra, non alzava tutte e due le gambe e tutte e due le braccia, io non l'avrei cambiato, altrimenti facevo solamente dei cambi tattici. Ora vi date un obiettivo per le ultime partite di punti, quella quota 50, ci prova il Parma a tornare a sognare come stava sognando prima di avere una flessione o si guarda la giornata? Noi non abbiamo mai sognato, noi abbiamo solo lavorato per magari soddisfare i sogni dei nostri tifosi. È chiaro che a volte ci viene bene, a volte ci viene male, però io ci tengo a precisare che su questi ragazzi, sotto l'aspetto dell'impegno, dell'attaccamento e quant'altro, possiamo avere dei limiti, mi ci metto dentro anch'io, però sotto quel punto di vista non siamo mai venuti meno. I risultati a volte possono far pensare il contrario, il secondo tempo contro la San può far pensare il contrario, ma è evidente, è lampante che è stata una questione mentale e non di impegno di qualcos'altro, perché nel primo tempo gli stessi hanno fatto una grandissima partita. Si ragiona partita dopo partita, in questo momento il primo obiettivo è il Brescia, poi giocheremo contro l'Atalanta e poi l'ultima con l'Ecce. Il nostro obiettivo è quello di cercare di fare più punti possibili. Lavoriamo per questo da circa quattro anni, da quando sono qui. È chiaro che secondo me poi bisogna ragionare sul fatto che tutti i ragazzi, ogni qualvolta gli si è chiesto un obiettivo, lo ha sempre raggiunto. Quindi va anche dato dei meriti a questi ragazzi. Io non li ho rivisti, credo che il primo di Alberto Grassi a favore sia netto. Il secondo non l'ho rivisto, se fallo di mano o meno, però in questo momento non mi va di giudicare l'episodio, soprattutto perché credo che l'allenatore abbia abilitato, scusi l'allenatore, l'arbitro pur essendo, avendo fatto poche partite, ha abilitato molto bene stasera. È chiaro che lì più che addossare delle responsabilità all'arbitro, purtroppo non c'è chiarezza su questa regola. Stiamo vedendo che in questo momento il numero di rigore, soprattutto per il fallo di mano, sono troppi. Bisogna sempre pur considerare che è uno sport dove le braccia servono per l'equilibrio, per saltare di testa, quindi un po' si sta esasperando questa situazione. Ma quello che dà fastidio, ma ripeto, non è per colpa degli arbitri, che a volte la stessa situazione viene giudicata in maniera diversa. Solo quello, però non mi sento di dare responsabilità agli arbitri, perché anche loro stanno arbitrando ogni tre giorni, quindi a livello di energie, comunque qualche errore in più, come lo commettiamo noi, perché anche noi come squadra abbiamo concesso tantissimi rigori dopo il lockdown, quindi qualche errore l'abbiamo commesso. Però a volte poi ci sono delle situazioni dove i dubbi non ce ne sono, perché la situazione di Roma non ci può essere un dubbio nonostante uno vada a vedere il VAR, quindi poi a volte il fatto di essere protagonisti va a discapito di tutta la categoria, ma ripeto, non mi sento di responsabilizzare gli altri. Poi per quanto riguarda l'altro rigore di Kuluseski, credo che gli sia fermato sopra, è stato bravo, è stato malizioso nel cadere nel momento giusto, perché comunque il fallo, il contatto c'è stato, come Caramò invece sul primo tempo, dove c'è stato, nonostante ha ricevuto un calcio solo uno contro uno, è rimasto in piedi sotto quel punto della malizia, dobbiamo ancora migliorare.